attenzione Paolo Maccio a qualche metro di vantaggio eccoli qua è stato recuperato ci sembra lanciata la volata lanciata la volata c'è stata anche una caduta lanciata la volata lanciata la volata troia nelle prime posizioni dovrebbe essere il coglione della TAP 176 attenzione Paolo Maccio a qualche metro di vantaggio eccoli qua è stato recuperato ci sembra lanciata la volata lanciata la volata c'è stata anche una caduta lanciata la volata lanciata la volata troia nelle prime posizioni dovrebbe essere il coglione della TAP 176 a qualche metro di vantaggio eccoli